Si vincono le partite giocando meglio, in modo equilibrato, come abbiamo sempre cercato di fare. Abbiamo alcune situazioni da valutare, perché è stata una settimana con qualche piccolo acciacco. Abbiamo questa incognita delle tre di file, però decideremo all'ultimo. Sicuramente dovremo fare una partita dai toni molto elevati, aspettando dall'altra parte una squadra che dalle dichiarazioni che ho letto ambiscono a conquistare di nuovo altre posizioni. Di conseguenza troveremo sicuramente una squadra in salute. Dobbiamo essere sicuramente più propositivi, non fare calcoli, perché tutte le volte che abbiamo fatto calcoli purtroppo non siamo riusciti a arrivare al risultato. Di conseguenza mi aspetto sicuramente, ma da come si sono allenati sicuramente faremo una grande partita. Mi auguro che ci sia una regolarità anche nell'ultima giornata, sicuramente. Però poi dopo dipenderà tutto da noi, perché se noi continuiamo a non fare risultato e continuiamo a regalare la possibilità di rimetterci in gioco al 100%, è normale che gli altri risultati ci riguardano poco. Spighi è convocato, però incrocio le dita, nel senso che anche l'ultima volta che ho detto questo era convocato e poi all'ultimo momento. Stiamo procedendo in un lento recupero, è un giocatore che ha avuto una miriade di problemi, è un giocatore che è sulla via della guarigione, oggi ha fatto un tempo, potrebbe essere della partita, come potrebbe anche, se le cose non dovessero messersi bene, portare a un programma diverso per cercare un recupero, se ci dovessero essere delle altre gare. La decisione della partenza è stata mia, nel senso che volevo che questo gruppo rimanesse un pochettino più assieme, avere la possibilità di allenarci due giorni su un campo in erba, perché a che lunga che uno possa dire allenarci sempre sul nostro campo può creare delle problematiche, ma soprattutto per stare assieme, perché siamo arrivati nel momento cruciale, e la società mi ha dato questa opportunità, io l'ho chiesto e di consenso sono ben felice che mi sia stato accordato. A me non mi fa paura nessuno, non mi interessa chi capita, io sono convinto che questa squadra, ancora dobbiamo entrarci dentro i play-out, non merita, se dovessero entrare sicuramente è per colpa nostra, non per colpa degli altri, perché se entriamo dentro in quella situazione vuol dire che tutti dobbiamo fare un mio colpa, chi capita capita, non mi interessa, non faccio preferenze, sono tutte squadre che se sono lì dentro hanno gli stessi nostri problemi, dovremmo essere bravi, prima di tutto se dovesse essere a centrale di una posizione di classifica, perché quello è fondamentale, perché è normale, non è che ci dobbiamo nascondere dietro un dito, facciamo fatica a fare gol ma prendiamo pochissimi gol, in ottica eventualmente dovessero essere di play-out, è normale che avere la posizione in classifica migliore è sicuramente un grande vantaggio per come è andata la nostra annata.